Paura in Valdarno per un incendio che si è sviluppato nel resede della IWW, la storica vetreria che si trova nel comune di San Giovanni Valdarno. A prendere fuoco alcuni materiali, soprattutto cartoni, che si trovavano sotto alcuni box nel resede dell'azienda. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia. L'allarme alla centrale dei vigili del fuoco è scattato intorno alle 14.30 quando alcuni cittadini hanno avvistato una grossa colonna di fumo denso alzarsi nei pressi dell'azienda. A prendere fuoco, materiale stipato sotto alcune tettoie nel resede della vetreria. Il pericolo era che le fiamme potessero raggiungere l'azienda dove sono stipate le merci all'interno di scatoloni. I vigili del fuoco sono giunti sul posto e hanno domato le fiamme, scongiurando il peggio, ma la colonna di fumo denso ha determinato anche la chiusura per circa un'ora della corsia sud della A1 che costeggia il resede della IWW. Sul posto si è anche portata una pattuglia della polizia stradale per monitorare la situazione in merito alla viabilità. Adesso saranno avviate le indagini per capire l'origine delle fiamme. Sprecciava a 90 km orari con il monopattino sulla pista ciclabile. Per lui è così inevitabilmente scattata la multa. A notare il monopattino elettrico che viaggiava su una pista ciclabile a piscaiola a velocità molto elevata sono stati gli agenti della polizia municipale di Arezzo che hanno fermato il conducente, un cittadino extracomunitario regolarmente residente. Sono così scattati anche i controlli sul mezzo per verificarne l'effettiva velocità raggiungibile ed è stato constatato che il monopattino riusciva a raggiungere i 90 km orari ben oltre quanto consentito e fissato, ossia 20 km orari. Per l'uomo è così scattata la sanzione amministrativa. La polizia municipale, proprio a seguito di questo episodio, ricorda oltre al limite e all'obbligatorio regolatore di velocità che i monopattini non possono avere posti a sedere. Se acquistati dopo il 30 settembre 2022 devono essere poi dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. Quelli già in circolazione a tale data invece dovranno adeguarsi entro il 1 gennaio 2024. La polizia municipale poi ricorda che il conducente deve aver compiuto 14 anni e se minore di 18 deve indossare il casco. Il monopattino inoltre non può essere condotto sui marciapiedi. Le eventuali sanzioni possono comportare anche la confisca del mezzo. Il presidente della provincia di Arezzo Alessandro Polcri e l'assessore all'istruzione, formazione e lavoro della regione toscana Alessandra Nardini hanno siglato nella Sala dei Grandi ad Arezzo il protocollo di intesa interistituzionale per favorire l'occupazione calibrando l'offerta formativa in base alle esigenze del territorio. Credo che sia un lavoro importante, comunque dare sinergia ai territori per un domani creare le condizioni perché i ragazzi che studiano possono trovare nel mondo del lavoro quello che effettivamente è anche per quello che hanno studiato. Sostanzialmente il mettere insieme la domanda e l'offerta di lavoro. Un percorso che la regione toscana sta portando avanti in tutte le province. È un protocollo che tiene insieme il mondo della scuola, il mondo della formazione, il mondo dell'università e della ricerca, il mondo del lavoro. Quando parliamo di formazione ovviamente pensiamo alle giovani generazioni ma dobbiamo anche ricordarci che oggi è molto forte, importante e necessario il tema della formazione continua lungo tutto il percorso lavorativo di lavoratrice e di lavoratori per riuscire a riqualificare le persone che magari si trovano ad affrontare una crisi aziendale che purtroppo è sempre più frequente anche nei nostri territori visto la congiuntura socio-economica che stiamo vivendo ma anche aggiornare le competenze per accompagnare e non subire quelle grandi trasformazioni quelle transizioni che in questa fase storica stiamo vivendo penso a due su tutte la transizione digitale e la transizione ecologica. L'accordo è stato sottoscritto anche dalle parti sociali, dai sindacati, dal mondo della scuola e da quello del lavoro. Abbiamo giovani in disagio perché non trovano occupazione perché non hanno le competenze specifiche e competenze del mercato del lavoro che non sono coperte da nessun elemento di formazione. Quindi sia i soggetti che sono deputati all'istruzione in particolare poi quelli che devono affinare quel modello verso sistemi di formazione professionale coerenti con le esigenze del territorio devono mettersi insieme e trovare un modo per contemperare le diverse prospettive. Sono tornate per le vie di Castiglion-Fibocchi le bellissime maschere barocche che ricordano il carnevale di tradizione veneziana. Si esce finalmente tutti in maschera per accogliere tantissimi visitatori da tutte le parti e siamo veramente contenti perché abbiamo iniziato con il botto. Il carnevale dei figli di Bocco festeggia la sua 26esima edizione quest'anno è dedicato a Pietro Vannucci, detto il perugino, a 500 anni dalla scomparsa. Pensa un po', città della Pieve ha aperto le sue porte ormai sono passati 500 anni dalla sua morte. Noi ci siamo, è un'associazione del paese e tutto il paese è coinvolto in una manifestazione importante come questa, bisogna dare una mano anche perché è un momento di aggregazione molto importante e noi ci crediamo. 200 le maschere che hanno colorato il borgo realizzate con grande accuratezza ed attenzione e dettagli dagli abitanti del paese. Queste che vengono tutte dalla fantasia di questi signori che il giorno si trovano lì e cominciano a creare qualcosa, secondo l'umore di quel giorno. Se il giorno dopo, quando proseguono, sono di un umore diverso, posso anche cambiare. Quindi finché alla fine vengono fuori queste bellissime creazioni che ci invidiano a tutte le parti. La chiusura del carnevale è prevista domenica 12 febbraio con il tradizionale corteo reale ed intanto è tornato anche quest'anno il concorso fotografico. È importante che chi viene qua faccia le fotografie e partecipi al concorso. Basta andare nel sito dei figli di Bocco e si trova chiaramente quando e come partecipare. E la tematica di quest'anno qual è? Il Castello in Maschera E quindi perché Castiglione Fibocchi è chiaramente un castello e quindi il Castello in Maschera credo che sia il titolo appropriato. Prima uscita dei loro hangar per i quattro giganti di carta pesta i carri allegorici del carnevale di Fogliano della Chiana. Tanta l'emozione di tornare a godere della manifestazione senza restrizioni dovute al covid come invece era successo negli ultimi anni. Domenica 5 febbraio sono così iniziate le celebrazioni della 484esima edizione di una delle manifestazioni più antiche d'Italia soprattutto in assoluto il carnevale che vanta più storia. I quattro rioni si sono sfidati come sempre con i quattro carri allegorici il Cantiere degli Azzurri ha presentato il Monello, una raffigurazione di Charlie Cervin cineasta che ha messo in ridicolo la sua epoca grazie al suo cinismo e che oggi torna come immagine della vara ed egoistica visione dell'uomo. Il Cantiere Bombo l'ha proposto l'opera La Bestia Dentro una raffigurazione del viaggio dell'uomo attraverso il mare inseguendo ciascuno la propria balena bianca ovvero il sogno disturbato dalle difficoltà quotidiane. Il Cantiere dei Notambuli ha poi portato in scena diverso da chi con l'allegoria della storia di Hernán Cortés che stringe tra le mani la testa di Moctezuma il conquistador è incastrato tra due astronauti simbolo del progresso infine il Cantiere dei Rustici ha presentato il carro Amore Guerra ripercorrendo tramite la commedia di Aristofane la storia di Lisistrata come allegoria dei nostri giorni la figura della donna come progresso dell'uomo. I corsi mascherati andranno avanti per cinque domeniche fino al 5 marzo quando sapremo il nome del vincitore. Dopo due anni di stop a causa della pandemia sono tornate in tutta la provincia le domeniche di febbraio all'insegna di maschere, sfilati e travestimenti tra gli appuntamenti più attesi in città c'è quello con il Carnevale dell'Orciolaia quest'anno con un nuovo format e una nuova location più vicina al centro storico. Ad ospitare l'appuntamento il Parco Ducci in zona Montefalco senza i tradizionali carri allegorici ma con un percorso pieno di animazione e divertimento con giochi e musica, laboratori per grandi e piccini tra circo e giocoleria. Penso che sia stata una cosa veramente riuscita perché i bambini vogliono andare sui trenini vogliono vedere e vogliono partecipare soprattutto quindi questo è un modo per farli partecipare anche in una location qui tranquilla per i genitori dove non ci sono auto, non c'è traffico, non c'è niente non ci sono pericoli, quindi bene spero che anche domenica prossima sia un po' più caldino perché oggi è un po' freddino nonostante ciò è pieno, vedi? E quindi domenica prossima e poi la domenica successiva siano qui con noi a passare una bella serata in allegria. È una giornata calda, se sta bene anche i genitori sono proprio contenti di portare i citti con questa bella giornata calda al Carnevale. A me mi si è fermata anche la cinturazione di questi gambaletti e io ve lo dico non so se è il freddo o è l'elastico del gambaletto potrebbe anche essere quello allora buona vai che uomo di peso che c'ho, guarda qua buona Sì, il succo è questo eravamo abituati a altri come si dice, altri momenti più intensi altre partite più belle come Gio come periodosità però oggi oggi bisognava fare così per forza abbiamo fatto e siamo contenti di averla vinta sì, non mi ripeto ma indipendentemente dal gol non gol era l'atteggiamento cioè che contro una squadra l'altro è alta la seguida cioè quinta contro una squadra forte dovevamo dimostrare l'atteggiamento iniziale cioè che veramente ecco la squadra voleva far dimenticare la partita della nuova indipendentemente da come è andato gol non gol ho occasioni siamo stati meno belli ma era giusto sì, oggi fa così molto più pratici e molto più come posso dire attivi una parola perché c'è stato un esempio mi sembra a metà del secondo tempo tre scivolate non sedutive nel mezzo di campo di tre giocatori diversi quella ecco è l'immagine della squadra come doveva essere oggi dobbiamo aggredire tutte le partite a me oggi ecco poi bisognerà fare meglio dal punto di vista tecnico in altre partite perché è chiaro in altre partite avremo bisogno di forse migliori dal punto di vista tecnico però indubbiamente dal punto di vista comportamentale agonistica deve essere questa ma il capitano aveva sempre giocato aveva fatto praticamente tutti erano ruotati tutti gli altri era giusto che Foglia che si stava allenando alla grande da tanto tempo avesse l'opportunità di iniziare e in quanto a zona zona non c'entra niente zona zona sta facendo un campione straordinario era che volevamo mettere un giocatore in più caratteristiche difensive la il discorso che facevamo ieri di non prendere queste famose palle sopra a caso che ci aveva dato talmente fastidio nelle ultime gare mi sembra che con un giocatore Melazzarini più portato a difendere e attaccare eravamo più più solidi dietro è un campionato talmente equilibrato talmente rivelato che potrei anche dire essere lassù staccati rispetto alla quarta è già un titolo di merito però nulla e andiamo avanti andiamo avanti facciamo le ultime 12 giornate noi abbiamo fatto come abbiamo credito questa oggi e crediamo le ultime 12 prestazione di carattere per l'Amen Scuola Baschetta Rezzo che ritorna al successo in campionato battendo a domicilio il Costone Siena risultato importante per il morale e la classifica l'inizio partita della SBA è molto determinato costringendo al time out la panchina del Costone i padroni di casa punto su punto riescono a rientrare impattando il punteggio a quota 18 a fine primo quarto la partita prosegue in equilibrio poi sono i padroni di casa a portarsi sul più 7 a 3 minuti dall'intervallo l'Amen reagisce così a fine secondo quarto le due squadre sono di nuovo in parità a quota 40 il break decisivo arriva e rientra in campo dagli spogliatoi due triple di Toi ed una di Fornara spingono i Amaranto a più 8 con la formazione senese che sbatte sulla difesa Amaranto che tiene duro tanto che la terza Sirena la sbassi trova in vantaggio sul 62-52 l'Amen è concentrata e gestisce bene il vantaggio che tocca anche 17 punti ancora Fornara dalla distanza porta Ieretini a quota 85 il costone riesce negli ultimi due minuti a ricucire lo svantaggio solamente per fissare il punteggio finale sull'85-75 per il quintetto di Cocce Evangelisti un bel successo per l'Amen in un campo storicamente difficile la sbassi sabato prossimo tornerà al palaestra per ospitare la Toscana Fudo Livorno formazione che nell'ultimo turno ha messo in difficoltà Prato seconda in classifica Grazie a tutti